Allora, stiamo mettendo tutti. Ok, c'è già qualcuno che ci ascolta, man mano le persone si stanno connettendo, quindi aspettiamo ancora qualche secondo tecnico. Ok, streaming è partito. Ci siamo. Ok, ciao a tutti, sono Mara Marzocchi e vi do il benvenuto al Meetup di questa sera. Il Meetup fa parte del circuito Aperitech. Aperitech è un'iniziativa nata da Code Motion in collaborazione con l'Usel Labs e praticamente lo scopo di Aperitech è promuovere un circuito di Meetup sorganizzati dalle tech community. Per seguire tutti gli appuntamenti degli Aperitech potete o seguire il canale Telegram o iscrivervi al Dev Calendar oppure entrare a far parte della nostra tech community. Questo che vedete è uno screenshot del banner della tech community. È molto importante che fate join sulla tech community perché il Meetup di stasera come gli altri Meetup poi avranno un seguito su, si continuerà a discutere sulla tech community. Perciò tutto quello che non riusciremo a approfondire, a dare magari qualche domanda, qualche argomento poi lo riprenderemo nei giorni successivi dentro la tech community. Naturalmente Code Motion non fa solamente Meetup ma accompagna la crescita professionale degli sviluppatori con tante attività. Per esempio abbiamo i webinars, le coding challenges, gli articoli del Dev Calendar, i training courses e ovviamente abbiamo anche le grandi conferenze. Proprio due settimane fa abbiamo organizzato la prima nostra conferenza online su Deep Learning in collaborazione con la community di Pillar in Italia e a giorni pubblicheremo il calendar delle prossime conferenze dell'autunno. Proprio per andare a capire quali sono proprio gli appuntamenti delle tech community sulla sezione community della nostra piattaforma potete, selezionando il giorno, dare uno sguardo all'elenco completo dei tech meetup. Per esempio la prossima settimana avremo un meetup degli Accessibility Days, poi abbiamo un altro meetup diretto di Code Motion e poi abbiamo un meetup di RomaJS e anche un meetup di Deep Learning in Italia. Perciò naturalmente questo calendario si aggiorna di settimana in settimana. Quando le community organizzano gli eventi vengono pubblicati sul calendario. Voglio espandere due parole sul prossimo meetup organizzato direttamente da Code Motion. Praticamente è un ciclo di meetup, saranno quattro meetup sul macro tema di come costruire team performanti. Il primo argomento che andremo a trattare è lo Spotify Model e andremo in questi ciclo di quattro meetup a ingegnare dei CTO che sono dei punti di riferimento nella scena europea. Tutti i meetup saranno in inglese. Adesso entriamo un po' nel vivo del meetup di stasera. Questo meetup ha una storia un po' particolare perché era nato come un panel all'interno del Code Motion Roma. Poi, come tutti sapete, ovviamente abbiamo dovuto rimandare la conferenza ma l'argomento ci piaceva e perciò abbiamo deciso di organizzare un tech meetup online. Perciò io adesso passo la parola a Giulio che è il moderatore di stasera e praticamente ci presenterà tutti i panelist e ci spiegherà anche perché abbiamo deciso di fare questo particolare, di trattare questo particolare argomento. Vai Giulio. Giulio, sei mutuo. Ho preso l'asso, ero mutuo. Allora, buonasera a tutti, grazie mille per essere qui con noi. L'argomento è molto interessante quando appunto ci siamo organizzati per il Code Motion Roma. Questo era uno degli argomenti che secondo me poteva essere più interessante a vedere dal vivo con tutti quanti perché parlare dei propri errori, per questo anche ringrazio i panelist, non è facile, ci vuole molto coraggio. Comunque l'errore è un qualcosa di naturale e che capita a tutti, anzi è un elemento fondamentale e vedremo quanta discussione come questo infatti si va articolare nelle esperienze di tutti quanti. Però è certamente qualcosa in cui è difficile parlarne, quindi è giusto invece dedicare un meetup a questo argomento perché l'errore di fatto significa avanzare rispetto ai propri limiti e comprendere qualcosa di nuovo. Quindi io approfitto subito per ringraziare i panelist, vorrei introdurli uno ad uno. Diciamo, nonostante l'ordine di infografica, farei latest first e quindi partirei da Iuna Salviati. Se si può giusto presentare, spiegare un pochettino il suo background, in modo tale che così poi diventa più facile anche articolare la discussione insieme agli altri. Grazie, Giulio. Buonasera a tutti, sono Iuna Salviati, sono un software engineer e in questo momento sono impiegata come full stack developer. Quindi posso fare un sacco di errori, sia frontend che back end su tutto lo stack. Insomma, fuori dallo scherzo, in realtà di giorno appunto sono software engineer, ma poi nel tempo libero sono una persona anche molto curiosa, quindi mi occupo di varie cose, sono molto addentro diciamo alle community, sono co-leader del Google Developer Group Roma, JDG Roma e Women Techmakers. E spero questa sera insomma di condividere con gli altri la mia esperienza. Magnifico, grazie mille. Allora passerei a questo punto a dare un po'. Ok, buco, speravo. Speravo si continuasse RTL. No, no, ormai era così, dai, sono ritornato al via. Va bene, va bene. Allora, ciao a tutti, sono Davide, sono frontend developer per credimi, una startup fintech, anche se ormai startup ci sta stretto come nome. Sono anche uno degli organizzatori di Milano Frontend Meetup, che è un meetup di frontend milanesi, anche se abbiamo subito parecchio il colpo delle ultime vicende mondiali, non organizzandone più da un po', dal punto di vista successo tutto ciò, di un percorso un po' particolare, perché io di origine sono un designer, un vecchio designer che si è dato allo sviluppo, perché non mi piaceva come venivano implementati i miei design, e alla fine ho iniziato a implementarmi lì e adesso implemento gli design degli altri. Hai detto, spostatevi, faccio io. Sì, sì, ma mi hanno fregato. Grande, grande, ottimo, ottimo. Poi avrei un modo di approfondire anche questo aspetto. Vai adesso, l'altro Davide, vai Davide Cerbo. Ok, mi chiamo Davide Cerbo, lavoro in Art Fresco, un'azienda che fa un content management system open source, da qualche mese, sono abbastanza nuovo. Nei precedenti 14 anni ho lavorato un po' in giro per la penisola e poi mi sono occupato bene o male sempre di back-end e qualche volta sfortunatamente di front-end, poi ho smesso, infatti adesso ufficialmente ne lo tocco più. E niente, dopo vi racconto l'altro. Ottimo, ottimo, benissimo, benissimo. Allora passiamo ad Alessio, adesso Biancalana, anche l'un altro full stack che può fare danni ovunque. Eccoci, esatto. Vai, grande. Ciao a tutti. Alessio, full stack engineer, in realtà adesso come job position, occupo quella di senior front-end, lavoro in Hootsuite, sono committer per Apache Foundation, e in realtà in Apache Foundation mi ha portato un errore che probabilmente vi racconterò dopo. Il resto, va, nel tempo libero faccio un sacco di cose, tutte col computer. Va, via. Benissimo, benissimo. Allora, perfetto. Allora, io diciamo che possiamo iniziare con le domande. Ovviamente sentirei liberi di interrompere, di aggiungere qualsiasi cosa durante la discussione. Quindi la prima domanda è, cominciamo a chiarirci bene anche sul concetto, cosa concepiamo per errore o meno. Quindi la prima domanda è proprio, secondo voi, che cos'è un errore nella vita del programmatore, che cosa significa, come l'interpretate. Cominciamo nell'ordine. Vai, Iuna. Nel frattempo, chi ci segue da casa può rispondere a questa domanda, cioè, quale fra questi quote, secondo voi, rappresenta meglio l'errore nella vita di uno sviluppatore? Poi dopo commentiamo insieme anche con Davide, Alessio e Iuna. Ok. Ok. Per me l'errore è proprio il motivo, dottore trainante dell'esperienza, nel senso che se non facessimo errori, non ci sarebbe quel momento in cui capiamo che cos'è che è andato storto, in cui possiamo prendere delle contromisure e chiederci perché, cioè che cosa è andato storto e come lo possiamo mettere a posto. Riconoscere gli errori, quindi, è il primo passo per una soluzione, e di conseguenza non si può mettere una patch se prima non sappiamo bene qual è l'errore che abbiamo fatto. A questo proposito vorrei citare una frase di Pratchett che viene da Going Postal, che è un romanzo steampunk fantasy. Pratchett dice che in realtà se non sai dove sei e come ci sei arrivato, non puoi sapere neanche dove vai. e secondo me questa è una frase che si adatta tantissimo anche all'esperienza che uno sviluppatore può fare quando prende in considerazione tutti gli errori che ha fatto. Dovremmo aggiungerla tra queste, i quote della lista. Molto bella, molto interessante, ottimo, ottimo. Allora, a questo punto continuiamo, vai con Davide. E quindi mi tocca, dopo la cerchia... Ti tocca a te Davide, ormai ognuno sa qual è il Davide 1, Davide 2, non c'è neanche chi lo dico. Grande, bravi. Allora, sì, confermando che ovviamente è il primo mattoncino per fare esperienza, come si dice delle volte per chi gioca GDR non faccio errori, faccio EXP, qualcosa del genere. Diciamo che per un programmatore gli errori sono sono belle bestie perché ci sono una tipologia di errori che è quella che il linguaggio ti segnala, il sintaxe error, gli errori di cose, quelli sono gli errori. Quelli che secondo me ormai i programmatori temono di più sono gli errori di logica, ovvero quando hai sbagliato proprio ad approcciare il problema per un bias tuo, perché non era chiara la specifica, perché quella cosa lì non è il modo corretto di farla, ci sono vari vari percorsi, penso che li vedremo un po' tutti, che ti portano a fare questa tipologia di errori quando si sviluppa. Ottio, continuiamo, facciamo questa rapida carrellata, poi torniamo su questi argomenti perché c'è da approfondire sicuramente. Vai Davide! Davide Cervo, vai! Ok, per me l'errore è quotidianità, cioè nel nostro lavoro stiamo tutti i giorni a combattere con gli errori perché o risolviamo quelli che hanno fatto altri o ne stiamo noi inserendo qualcuno all'interno del codice, quindi bene o male è quotidianità. Poi, solo sbagliando possiamo capire come risolverli e soprattutto penso che per evitare di fare errori sia appunto importante essere anche un po' una sfida di chi fa il nostro lavoro di essere sempre concentrati. Quindi è quotidianità per noi l'unica soluzione è un po' di concentrazione. Ok, questo è anche molto importante perché quello che sto dicendo cioè il discorso spesso si ha a che fare con errori e il principiante tipicamente commette una serie di errori ma anche l'esperto commette degli errori forse di natura diversa però ne commette tanti ugualmente il fatto che sia esperto non significa che non si commette errori quindi sono diversi esatto sono diversi quindi questi sono aspetti molto interessanti però non voglio togliere anzi giustamente l'Alessio poi casomai facciamo un giro commentando pure questi come stanno votando i conti i nostri amici in casa vai Alessio Allora la prima cosa che dico è che c'ha ragione Andrea Giannantonio che dice che Arnaldo Morena si merita di più in realtà hanno detto tutto quanto gli altri e hanno detto delle cose che non mi aspettavo nel senso che io sono anche giocatore e master dei Dungeons & Dragons e la citazione sia di Terry Pratchett che quella sul gioco di ruolo mi so piace veramente tanto quindi le sposo completamente e poi niente in realtà c'ha ragione Arnaldo Morena nel senso che programmare significa non dover mai dire mi dispiace l'errore l'errore di solito è una cosa che si associa ai principianti e in realtà io lo associo a qualsiasi gradino della scala professionale di un individuo nel senso che quando finiamo di fare alcuni errori semplicemente cominciamo a farne altri o perché saliamo degrado perché perché appunto semplicemente magari facciamo qualcosa che prima non potevamo fare perché eravamo dei semplici developer e magari abbiamo cominciato a fare i manager i leader i senior che ne so magari perché ci accorgiamo che cominciamo a fare quegli altri errori prima magari anche ce ne accorgevamo oppure esatto o prima non ce ne accorgevamo oppure magari la soluzione che applichiamo risolve un problema ne crea un altro quindi in realtà appunto come diceva pure Davide in realtà tutti 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 i giorni noi ci abbiamo a che fa con gli errori nostri e degli altri e infatti è distissima e come diceva anche un un panelist in altre occasioni sempre di questi meet up di Code Emotion in realtà al commettere l'errore e accettare dire ok no questa cosa non va bene la dobbiamo cambiare è il più grande atto di maturità che ci può avere uno sviluppatore che può commettere diciamo uno sviluppatore perché in realtà le cose vanno così infatti puoi anche ammettere l'errore comprenderlo cioè se è concepito l'errore associato a una cosa da principiante tu hai paura di ammetterlo perché non vuoi ammettere di essere un principiante o da principiante vuoi cercare di non farle quindi l'errore maggiore è non dire o comunque non comprenderlo perché lo commetti però non lo vai a esaminare a quel punto non impari quello che sta succedendo esatto è un errore di fondo forse maggiore quello è il vero errore piuttosto del commesso assolutamente tra l'altro non so se ne parleremo dopo ma esistono varie tecniche che ti portano a esaminare bene un errore a prendere degli action item tipo noi usiamo quella in azienda dei five wise per cui quando c'è qualcosa che è andato storto veramente il punto e virgola che manca a quel punto ci si riunisce tra tutti gli stakeholder che insomma erano coinvolti in quello specifico outage in quello specifico episodio e si dice ok identifichiamo cinque motivi dal più stupido al più macroscopico per cui questa cosa non ha funzionato e a quel punto ci sono personalmente me ne ho trovato in alcuni episodi in cui ha veramente funzionato questo insomma abbiamo messo in atto quelle che nel gergo per esempio dei security eccetera si chiamano remediation proprio cose grosse che magari cambiano il flusso di un'azienda intera allora a questo punto già che ci siamo guardiamo un'occhiata un attimo alla classifica vedo che appunto il primo in classifica attualmente è infatti molto semile al secondo è solo che il secondo è espresso da Oscar Wilde e qua abbiamo avuto apposta mettere persone che comunque citazioni di persone che non appartengono al mondo dell'informatica e secondo me quella più interessante è quella di Antonio di Santifari che appunto la perfezione non è tanto che non c'è più niente da aggiungere non c'è niente da togliere questo penso dell'informatica sia una cosa molto molto giusta perché spesso non aggiungiamo feature aggiungiamo feature noi non ci rendiamo conto che in realtà vediamo quanto in più ho messo quanto riesco a togliere e renderlo essenziale quindi il bello che finiva questa da chi ovviamente l'informatica non aveva nulla a che vedere era interessante comunque la Cassica effettivamente è carina il buon Morena effettivamente sta giù dove meriterebbe di più però insomma è interessante ottimo questo mi fa piacere grazie delle vostre risposte questi hanno tantissimi spunti il concetto di errore è come e come e come gestirlo mi interessa moltissimo adesso facciamo facciamo un giro di una seconda domanda però anche questo arricchita perché dal punto di vista del di cos'è che produce un errore cos'è che fa fare degli errori secondo voi è il processo perché se ho instaurato un processo ben particolare un processo che mi ha in qualche modo protetto nel ciclo dello sviluppo che faccia un po' da rete protettiva io mi sento più tranquillo più sicuro perché è come se fosse un funambolo che cammina sulla corda sapendo che però c'è una rete protettiva sotto che se scivolo e cado in qualche modo non ci rimango secco e comunque in qualche modo vengo vengo intercettato però cos'è secondo voi che è la causa dell'errore oggi cos'è che ci porta se è cambiato anche nel tempo questo nella vostra esperienza tipo non so i linguaggi che sono cambiati o il fatto che i framework si stanno aggiornando talmente tanto in cui diventa difficile essere poi effettivamente padroni del mezzo perché dopo pochi giorni poche settimane pochi mesi ecco lì che è uscito qualcosa di nuovo che vi mette in discussione quello che uno sa anche qua anche qua Giulio i partecipanti da casa si possono collegare a menti www.menti.com cliccare digitare questo codice 58 29 48 e possono votare le risposte prego ok secondo me ci sono varie cause e producono tipi diversi di errori perché diciamo beh fermo restando che ci sono delle situazioni in cui è molto facile commettere errori in generale le situazioni in cui c'è molta fretta la fretta è sempre una cattiva consigliera quindi dover prendere delle decisioni in tempi stretti in qualche modo ti inibisce delle capacità di analisi diciamo approfondite anche al di là di quelle che sono le tue capacità personali cioè ci sono proprio i tempi stretti quindi non puoi conoscere approfonditamente il problema in tutte le sue sfaccettature e ci sono errori che in questo caso come conseguenza di questo per esempio vediamo del codice che è scritto in maniera poco chiara o in maniera veloce quindi rimane di difficile comprensione poi se non hai chiaro il problema figurati se ci puoi scrivere sopra degli algoritmi o del codice che non sia un po' traballante insomma sicuramente oggi come oggi quando si affronta un problema c'è una varietà di tool di framework di linguaggi che ti mette di fronte a delle scelte abbastanza difficili da fare nel senso che se non conosci bene sempre lì il dominio di applicazione delle scelte che farai rischi di farti magari prendere dall'entusiasmo considerare qualcosa che hai appena visto come la panacea per tutti i tuoi problemi accorgersi solamente in fase di utilizzo in fase di utilizzo che c'è qualcosa che non va no? certo ma come full stack developer no? cioè pensi che sia più facile gestire certe cose o comprendere certi errori perché vedendo di fatto un'applicazione o conoscendo come si sviluppa un'applicazione a inizio e alla fine in tutte le sue le sue parti si puoi fare danni ovunque però almeno hai una visione d'insieme complessiva che sicuramente essere completamente padrone di tutto quello che hai scritto un po' ti aiuta perché conosci in maniera approfondita i dettagli di tutto quello che hai scritto quindi per certi versi quando qualcosa non va hai un po' il tuo sesto senso un po' il fatto che l'hai scritto del tutto tu ti aiuta per altri versi però sei solo davanti all'errore nel senso che quando il processo è del tutto tuo hai volato alto ma il cielo è sgombro non ci sono altre persone che hanno volato alto per chiedere aiuto non c'è nessuno hai fatto tutto te quindi hai chiesto tutto te esatto per cui però ci altri problemi sono spesso anche problemi di incomprensione insomma questo può essere spunto per qualcun altro ma adesso così passiamo la parola anche ad altri cioè il fatto che uno è frontend e l'altro è un backend developer spesso ci sono delle incomprensioni che a chi dice appunto spostati li faccio io no? sì assolutamente ma anche incomprensioni poi nei confronti di quello che vuole l'utente finale cioè non solo all'interno del team ma proprio a livello di che cosa voleva chi ti ha chiesto l'applicativo fare questo è poi sul requisito della comprensione del requisito e questo spesso a questo punto approfitto passiamo a a Davide così può raccontarci di un po' così ci racconta anche perché lui è passato da da content puro io ho visto quei suoi talk sulla parte di CSS o meno e adesso si ritrova a fare lo sviluppatore appunto quale è stata la causa scatenante che ti ha fatto saltare il fossato allora di sicuro è una questione di uno sulle cose di cui appunto ogni tanto parlo è una questione di comunicazione come diceva prima Iuna spesso e volentieri non si secondo me il primo motivo di errore in assoluto è la mancanza di riuscire a capire quali sono i requisiti che è la cosa fondamentale a me mi ha fatto molto ridere perché appena è iniziato appena si è vista la slide delle risposte del pubblico è schizzato in alto non fare i test che è proprio boom subito è stato il più votato poi adesso è arrivato al secondo posto che non puoi non concordare io è un paio di settimane che sto scrivendo solo test per poi fare fare l'implementazione il problema è che non puoi scrivere i test se non hai capito cosa devi andare a fare cosa che invece vedo succedere io vedo intere test suite scritte senza aver capito cosa andare a fare un'altra causa di errori molto gravi vi spoiler uno dei miei errori che più mi è costato è il fatto di pensare ho scritto i test funziona 100% c'è un test coverage del 99.8% non può esserci niente di sbagliato era una pagina abbastanza importante quella di finalizzazione dell'operazione dell'utente c'era questo bottoncione dove uno cliccava e partiva il processo di finalizzazione eccetera ci avevamo i test tutto quanto la cosa che il bug era un bug dovuto da una nuova implementazione di Chrome di come funzionavano come funzionavano le immagini dentro CSS Grid quindi l'immagine che c'era sopra decorativa andava a coprire il bottone quindi l'utente non poteva schisciare il bottone finale 3-4 giorni di produzione buttata perché appunto non avevamo nessun il genere lì perché appunto con il DOM virtualizzato tu puoi cliccare eccetera e quindi questo mi ha fatto poi portare a capire l'importanza dei test end to end l'altra cosa lo sottolinea immediatamente ma Mattia ci stava arrivando in chat è che va benissimo i test per verbalizzare cioè proprio perché una delle cose più fighe dei test è che ti permette di capire se hai capito il problema cioè se non riesci a testare un problema vuol dire che proprio cioè a scrivere la test suite probabilmente non riesci a non riesci a non hai preso in pieno devi comprendere esatto il problema che ho avuto io in passato sulla scrittura dei test infatti poi per quello sono passato a scrivere test attraverso molti lo conosceranno Cacamber e Gherkin è il fatto che è una figata quando parli con gli sviluppatori un stack proprio oggi ho avuto una discussione parlando guardando dei test per capire i requisiti che che c'eravamo dati un po' più difficile quando devi coinvolgere designer e magari business analyst e spiegargli il concetto di assertion perché quella roba lì c'è un fire event di qualche genere cioè il test alla fine è ottimo va bene per capire le due cose per ogni manca ancora quella parte lì di comunicazione quindi anche in BDD spinto è poco legato è troppo comunque distante dal requisito in sostanza infatti non è una cosa ovviamente che dico solo io io sono un grande autore del BDD con la B al posto BD BV si 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 BV BV perché appunto parti da lì poi ci vai a fare il BDD comunque però prima di andare a fare il test definito vai a a scrivere quella cosa là l'ultimo punto è appunto che spesso e volentieri e qui non è proprio un errore dello sviluppatore ma secondo me lo sviluppatore è una delle altre cose che ho notato nell'esperienza è che spesso si sta zitto se ne lamenta solo in privato che la feature che ti han chiesto tu reputi che è una scemenza perché quindi ti viene male di sicuro per forza cioè che puoi fai a scrivere bene una funzionalità che ti reputi che una schifezza se tu la reputi una schifezza devi anche essere abbastanza onesto da farti convincere che è la strada giusta ci sono due soluzioni o stai sbagliando tu o sta sbagliando il tizio che ti ha chiesto la feature cioè non è che non ci sono le vie di mezzo non c'è una via di mezzo ovvio se tu sei totalmente negativo sulla feature a me mi è capitato più volte soprattutto magari quando fai un po' di cresci un po' eccetera che magari qualcuno a cui è stata data una feature qualcuno di me a cui è stata data una feature viene da me e dice ma sta roba qui che senso c'ha e infatti te lo devo spiegare io ti hanno fatto questa roba qui ci stanno tutte le cerimonie grooming eccetera ti sembra una scemenza dillo piuttosto verrai corretto cioè quelle sono secondo me questo tema di comunicazione poi è alla base per poter iniziare a scrivere i test scrivere il codice eccetera eccetera però comunque effettivamente a volte i test ti danno una sensazione di falso falsa sicurezza no? mi è capitato così ammetto anch'io mi ci metto anch'io subito sono altri effetti sembra sempre però è effettivamente una piccola applicazione in cui una sola cosa avevo fatto il test automatico una sola e il test automatico era sbagliato l'unico effetto stava proprio lì il resto funzionava tutto e perché lì io ero sicuro ha fatto il test automatico funziona bene a ogni combinazione lo girava sempre ok ma era sbagliato perché è sbagliato anche il test quindi vabbè quindi mi ci metto ma infatti io penso l'ultima cosa è appunto tutto quello che abbiamo detto finora se io che io il primo punto che hanno sollevato è quello più giusto il lavorare in emergenza perché ti ammazza la comunicazione se sei in emergenza non scrivi i test se sei in emergenza non fai domande ti butti a capofitto anche se ti sembra una scemenza e poi da lì è una cascata di una materia si apre il vaso di Pandora esatto vabbè passiamo invece a Davide Cervo e approfitto anche per chiedere se secondo lui dato che lui è un amante di Kotlin se secondo lui anche il linguaggio per sé ti può aiutare o è causa degli errori sì il linguaggio ti può sicuramente aiutare ma non tanto il linguaggio in sé per sé ma la confidenza e la conoscenza che hai col linguaggio indipendentemente da quello che stai usando cioè se sei bravissimo in C e C lavori da vent'anni sicuramente commetterei meno errori rispetto a questo a farlo in Kotlin dopo due mesi poi sicuramente i linguaggi moderni come Kotlin TypeScript e altri ti aiutano e ti guidano nell'evitare errori perché appunto anche in momenti di compilazione ti danno tanti suggerimenti e ti aiutano spesso a scrivere anche meno codice perché poi meno codice si è scritto meno codice si ha da testare e meno possibilità di errore ci sono da fare certo il miglior codice è quello che non è scritto è infatti meno c'è sicuro la soddisfazione maggiore è quando fai una pull request non è tanto per il codice che scrivi ma quello che togli spesso e volentieri perché questa roba non serve togli togli bravo ma tipo in questi giorni sto facendo un lavoro su una cosa abbastanza vecchiotta in azienda e per niente c'è tanto codice che veramente non riesco a comprendere a che serve e se oggi serve cioè non so però sta lì nessuno lo tocca sta bene lì riesci a cancellarlo? diciamo che sono ho cambiato da poco team quindi aspetto ah poi sei più delicato tu fai una cosa tu cancella tutto tu cancella tutto e poi ci vieni a raccontarmi al prossimo sui errori come hai permesso di identificare esattamente le porzioni di codice non utilizzato cioè proprio perfetto esattamente molto spesso fanno succedere anche sul cloud ma vediamo tutta tu spegni la macchina se non si lamenta nessuno vuol dire che non gli serve a nessuno però è facile perché per rimediare basta riaccendere quando cancella il codice magari un po' più di danni però abbiamo tanti test quindi pure se cancello bene o male i test mi potrebbero dire se ho cancellato cose che potremmo cancellare oppure no ma il fatto ecco già la cancellazione se cancelli c'è un compilatore che non si lamenta già quello potrebbe aiutare quindi forse un linguaggio compilato lo vedi come poi magari su questo pure Alessio vuole esprimere la sua opinione secondo te aiuta cioè c'è una grande differenza tra chi usa linguaggi che sono poi a fine compilati basta anche un typescript che poi ti fa transpiring però comunque oppure che ne pensi di questo allora io sono un po' di parte perché nonostante poi alla fine la snellezza di altri linguaggi poi mi piace però poi sul lavoro e anche lavorando in team grandi in passato ho lavorato per una software factory dove c'erano decine e decine di persone se no qualche centinaio alla fine un linguaggio compilato il classico java o kotlin o typescript infatti là usavano typescript e java ti aiuta perché ti dà quel comunque un linguaggio ben tipizzato ti dà comunque quella sicurezza e controllo su quello che stai facendo a monte quindi diciamo ti fanno già un piccolo test prima che arrivi a scrivere i test e poi sì cioè quindi su questo sono d'accordo poi ovviamente ognuno ha le proprie scelte stilistiche nel senso che se sei confidente con javascript diciamo usi javascript sicuramente lo userai bene e eviterai gli errori comuni che si può fare magari per chi non è tanto adesso e così via forse per questo penso anche typescript in questo periodo sta avendo un po' di successo eh sì infatti forse perché a buttare dentro gente cosa che magari javascript non permette facilmente una cosa che diceva sempre un collega molto bravo sul frontend che mentre in java potevi anche essere un po' potevi anche essere un po' indisciplinato in javascript la disciplina è fondamentale senza quella rischi di fare guai e quindi è pericoloso certo più gravi libertà per certi versi quindi da un grande potere sì poi grandi poteri grandi responsabilità voglio raggiungere due cose sui primi due punti non fare i test oggi con tutti i tool che ci sono libri documentazione esempi se non li fai è colpa tua cioè oggi io penso che negli ultimi tre anni scrivere un software senza una buona copertura di test è una tua scelta di assumerti un rischio e se poi qualcosa non va per il verso giusto è colpa tua o colpa del film o colpa del fatto che è così in emergenza che non hai scritto i test quando magari poi quando sei in emergenza i test ti possono aiutare a evitare di dover tornare sui passi ed è una cosa giusto una cosa che ho notato negli anni lavorando da un po' non so se sono stato disportunato ma quando lavoro in Italia ho sempre avuto mi sono sentito sempre in emergenza ho avuto sempre quest'ansia che anche se non sono in emergenza il progetto appena iniziato è già in ritardo e quindi ho sempre avuto questa pressione quando ho lavorato con l'estero come anche adesso e quando anche se siamo in ritardo sei più tranquillo non c'hai pressione non senti questa emergenza quindi questa cosa è anche forse un malcostume nostro di come siamo abituati a lavorare che ci porta a dover lavorare in emergenza e poi fare le cose brutte come in napoletano si dice pezzotto e quindi poi si pagano tutti quanti dopo e non c'è niente da fare è un conto che prima o poi è un conto che hai aperto e che ti aspetta lì quindi questo è uno stress negativo non è uno stress positivo insomma sì anche se c'è fretta è inutile lo stress cioè nel senso che bisogna lavorare comunque con i giusti ritmi con la giusta velocità perché se no è peggio dal mio punto di vista ok passiamo all'Alessio vediamo invece secondo te la tua esperienza io prima ho una posizione da fare che è la seguente i type system non sono fatti come strumento per prevenire gli errori ma sono un development tool che ti fa fare altre cose e che occasionalmente previene alcuni errori però cioè io mi sono imbattuto veramente tante tante volte lavorando in Java in C anche con TypeScript ultimamente col classico caso di ma che te frega tanto c'è sta TypeScript che è compilato C che è compilato Java che è compilato alla fine però c'è persino con Haskell che è il linguaggio più stretto che esiste in quanto a errori a runtime poi comunque c'è errori a runtime perché non te ne accorgi ritorni in bottom type e scoppia tutto appena mandi in produzione e quindi in realtà c'è sicuramente un aiuto da quel punto di vista però non cioè secondo me deve starci tutto quanto e ci devono star i giusti investimenti e la maggiore la maggiore causa appunto di errori dei programmatori sono oltre chiaramente la ora in emergenza su cui non mi esprimo perché è stato fatto già abbastanza e veramente cioè non scusate se mi è andata un po' di illuminazione la cosa secondo me principale sugli errori dei programmatori è che non vengono fatti i giusti investimenti in partenza quando o quando inizia un progetto o magari quando stai in una fase in cui ti puoi permettere del consolidamento per cui metti su una suite di test fatta bene rifattorizzi i tipi se ce li hai e che ne so il tuo processo non impedisce agli sviluppatori di fare ssh in produzione e tu non te ne curi finché qualcuno non mandano script per sbaglio su e sbraga quattro macchine eccetera eccetera quando c'è un'opportunità di consolidamento di questo tipo se non viene fatto un investimento il management e in ultima istanza tutto il team si assumono tutto tutta la la responsabilità di dell'errore poi che è che è di cui di questo e come dice Mario che io non conosco le commesse partono già in deficit questo insomma bisogna capire come ottimizzare il budget diciamo secondo me gli soldi c'è stato ma adesso che è cambiato un po' tutto sei passati appunto dal vuoto l'agile o meno adesso viene in mente agile gigi il problema è che se sei agile gigi e dici poi lunedì ci pensiamo e prima o poi lunedì arriva e quindi e poi non poi di eh ma io pensavo che questo lunghissimo weekend non passasse mai quindi ma io stesso sul sul progetto su cui sto il mio manager che saluto che è Giorgio cioè ma che è Giorgio Cefaro qualcuno di voi lo conosce la prima cosa che abbiamo fatto appena siamo entrati su questo progetto che era un progetto anche già in essere quindi insomma con un po' di handover da gestire e tutto quanto abbiamo fatto dei meeting apposta a me non piacciono i meeting però perché poi se no se finisce dobbiamo fare la riunione per capire cosa quando fare l'altra riunione però in realtà la prima cosa che abbiamo dovuto fare è capire quali fossero gli investimenti che potevamo fare a corto medio lungo termine proprio per garantirci che noi in iubi non non facessimo qualche 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 schioppo clamoroso infatti quindi a costruire quella rete di proiezione che dicevo prima nel senso di perché sapendo che tu puoi sbagliare e puoi sbagliare se ti chiamano le tre di notte perché c'è cosa che non funziona probabilmente non c'hai come diceva la lucidità per fare qualche cosa quindi lì se non sei sicuro che c'è il paracadute che ti prende vai e insomma diventa ancora peggio perché nel terrore di fare danni fai ancora più danni poi diventa un circolo inzioso però quindi diciamo che secondo te l'evoluzione di quello che è stato anche la parte di project management è aiutato a diminuire gli errori o no? L'ha cambiato nel senso che secondo me il ratio degli errori è rimasto lo stesso però è cambiata l'economia che ci sta dietro nel senso che prima magari con un approccio tipo Waterfall mo dico delle banalità con Waterfall tu c'avevi due anni di progetto lo andavi a mettere in produzione e non sapevi che stavi a fare e c'avevi un determinato tipo di errori chiaramente adesso invece è aumentata la velocità di delivery quindi è aumentato il feedback e il rumore prodotto magari da un product manager o da un tester che arriva e ti dice oh sta cosa non funziona che succede questo succede tutti i giorni e quindi diciamo che l'iterazione per arrivare all'errore è molto più breve cioè il feedback loop molto più molto più corto e quindi in realtà secondo me viene commesso lo stesso lo stesso numero di errori quello che cambia è che in realtà vengono commessi errori forse più piccoli più 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 boxati più 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 contenuti perché comunque c'hai quindi li ha spostati di fatto di errori rimasta da una parte adesso sono dall'altra però anche vero che potrebbe essere questo vediamo anche dai commenti dalle chat che può essere anche che non è detto che quello che si stia facendo sia stato fatto bene implementato bene magari uno cerca di farlo si parla tanto di scrum scrum poi quanto uno veramente sta facendo scrum quanto veramente sta facendo devops perché forse fatto veramente bene porta dei vantaggi reali uno spesso dice devops perché ho fatto una pipeline insomma Jenkins e faccio devops te voglio bene sì sei d'accordo io non posso sentire letteralmente aziende che dicono che fanno devops e hanno il team dei sistemisti perché cioè sicuramente c'è poi il membro del team che è il sysadmin come c'hai il membro del team che è il frontend però se non posso intervenire su su come il mio il mio software viene deployato cioè se creano i silos e quindi e quindi pace certo certo però su questo e torno a Iuna poi ti facciamo puntiamo continuiamo il giro che poi vediamo un po' i commenti gli errori un po' più storici poi andiamo anche su quello però intanto approfittavo però il un po' diventa come il caso del 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 full stack essere un full stack non è facile perché significa che devi conoscere più cose e più devi avere una conoscenza più profonda invece beh con javas che ci sono perché faccio back end faccio front end uso node vado su front end faccio uso angular e ho finito può sembrare più allettante per questo ma in realtà sono problemi differenti che devi risolvere e questo significa una conoscenza più importante se ci mettiamo anche l'aspetto di devops in cui prima devo essere solo sviluppatore ora devo anche sapere cosa significa andare in produzione che significa fare il deployment della mia applicazione sì devi avere una mente che ragiona su livelli diversi perché sicuramente fare back end ti pone delle problematiche diverse da quelle del front end anche solo in termini di visualizzazione dei dati per esempio per cui devi avere una visione eterogenea del progetto e una mente bilaterale cioè che si muove su più strati diverse riesce ad integrare tutti i regi quindi la barriera di ingresso aumenta perché di conseguenza iniziare in quest'ambito diventa più difficile perché devi conoscere ancora di più cioè se prima certe cose si erano quasi per scontato perché pure a tre livelli comunque quello nel mio mondo non si deve fare altro io al massimo imparavo a fare i miei EGB già va sto lì tanto non c'era altro modo di essere il deployment venisse fatto non c'era un'alternativa no? stessa cosa c'era il front end dipende perché sei anche responsabile di tutte le scelte che hai fatto nel bene o nel male almeno nel mio caso insomma in entrambe le parti del software diciamo tu hai deciso tu hai deciso come integrare come testare che tecnologia adottare per cui a quel punto sei come dicevo prima sei solo sei solo sei solo sei solo anche in questo riducca anche questo allora a questo punto continuo continuo di confronto tra virgolette è il dialogo il dialogo e il confronto effettivamente anche questo conduce cioè l'isolamento diciamo essere soli su certe cose rende più difficile anche perché non ti puoi confrontare con gli altri il confronto spesso aiuta tantissimo sì assolutamente è un altro fattore di crescita oggi abbiamo altri modi anche per confrontarci possiamo lavorare collaborare con gli uniti eccetera però è ovvio che anche lavorare a gomito con quello che sta con te sulla stessa sulla stessa cobase cambia moltissimo perché con chi altro ti vai a confrontare non è detto che abbia la stessa visione o stia vivendo lo stesso problema assolutamente infatti io penso che le comuni ti siano fondamentali in questo in questo ambito perché ti aiutano assolutamente ad aprire la mente anche agli errori e ai problemi che hanno incontrato gli altri cioè nel momento dello scambio facciamo uno più uno tu mi dai qualcosa e ti do qualcosa in termini di esperienza e alla fine diciamo ognuno di noi due torna a casa soddisfatto e con con un bagaglio in più quindi meno male che ci sono queste occasioni che pure con Emotion ci aiuta a fare infatti sono molto contento io approfitterei per fare un attimo una piccola carrellata per vedere un attimo gli errori commessi famosi in passato qui abbiamo fatto una selezione con Mara possiamo vedere questi errori fatti in passato così che richiamano anche molto di quello che abbiamo detto ragazzi sentitevi liberi di commentare per esempio uno questo stiamo parlando dell'inaugurazione di ITRO il Terminal 5 quindi il momento di inaugurazione è importantissimo è fatto diciamo con un approccio waterfall quindi non stiamo parlando di approccio agile sai mesi di test o meno è andato in tilt completamente il sistema di gestione dei bagagli per cui tutto bloccato con i cancellati bagagli smarriti per giorni disastro incredibile questo è stato molto interessante e quindi dicevamo quello che dicevamo anche prima aspetto del requisito qui è stato gestito mai un requisito non hanno considerato bene cosa succede veramente fare questo lavoro e banalmente non hanno considerato alcuni scenari e quindi questo effettivamente conferma esattamente quello che avete appena detto però come vedi Alessio anche qua il waterfall non ha aiutato quindi il metodo non è stato colpa del metodo perché non esiste non esiste il proiettile d'argento quando quando si arriva all'informatica no quindi cioè in realtà cioè persino un Frankenstein come waterfall se tu lavori con delle persone che ci hanno raziocinio in realtà poi che fanno te fanno spezzare date dei rilascio in rilascio iterativi che è come è nato Agile quindi in realtà sì cioè e quando viceversa magari talebanizzi che ne so applichi solo scrum alla lettera come c'è scritto su un pezzo di carta senza magari senza magari considerare le esigenze delle persone con quei lavori del tuo team che magari hanno bisogno di altri tipi di cerimonie per sentirsi più coinvolte o altre cose cioè chiaramente secondo me non esiste la metodologia secondo me è molto importante che in realtà i team possano decidere da soli i loro strumenti di lavoro in quanto cerimonie e a quel punto secondo me viene fuori del software veramente di qualità perché se io faccio il grooming perché nel grooming c'è credo come diceva Davide prima e chiaramente cioè quando faccio il grooming perché nel grooming ci credo poi quando vedo che ne so che c'è da fare un refactoring di qualche tipo perché ci sono le rotte degli aerei che devono passare una di qua una di là vi faccio due domande e dico ah ma qua forse si perdono i bagagli eh infatti poi quello successivo l'altro voleva questo vabbè come al solito vedi le persone che è contro questo molti magari non lo sanno comunque è una cosa era un malfunzionamento degli anni 80 del sistema antimissilistico sovietico che per un malfunzionamento genera un allarme per cinque missili che secondo questo sistema era stato lanciato dagli Stati Uniti contro contro l'Unione Sovietica e per fortuna una persona con grano salis ha detto no non è possibile non ci credo no e non ha agito di conseguenza se no ovviamente forse non steremo neanche qui a parlare se avesse poi scatenato la terza guerra mondiale una guerra nucleare perché semplicemente in maniera visse aveva detto allarme faccio partire anche i miei quindi questo sicuramente è stato un errore che una volta l'umano però è riuscito a evitare quello dopo successivo è stato quello dell'Arian 5 che è un classico buffer overflow adesso chi lavora lavora con il codice un po' più a basso livello per colpa del fatto che hanno applicato il software della versione precedente l'Arian 4 al 5 e col 5 ovviamente le cose erano diverse l'argo era diverso ed esplose in pochi secondi un razzo vettore mandando in fumo parecchi soldi e l'altra molto interessante secondo me ci rientriamo anche come diceva Davide prima e cioè quello del climate orbiter che è un un satellite che si è schiantato sulla superficie sull'atmosfera di Marte perché è entrato in orbita all'altitudine sbagliata e questo è dal fatto che due team che stanno lavorando uno pensava che i dati fossero unità imperiali insomma piedi pollici o meno l'altro invece pensava che i numeri fossero sistema metrico decimale internazionale quindi ovviamente questa cosa non si poteva parlare e quindi si è schiantato miseramente il brutto di queste cose è che qua non c'è modo di sistemare cioè lui è fatto partire e sarà giù il satellite di dire ciao arrivederci e grazie poi scopre questa cosa e non può più rimediare è andato anche lì tutto in fumo però ecco in questo caso forse il linguaggio ci sono linguaggi che hanno intrinsecamente unità di misura all'ora interno ad esempio Ada lo ha sempre avuto F Sharp c'è l'A adesso lo sai adesso mi piacciono a volte spaziali tra queste cose spesso abbiamo litigato su questi argomenti però allora lì forse ancora una volta il linguaggio poteva evitarlo questo tipo di problema perché un errore di questo genere veniva addirittura visto a livello di compilazione ma che pensi Davide qua la compilazione poteva essere l'elemento fondamentale no? beh sì ma penso che erano nel 98 penso che abbiamo solo linguaggi compilati sì sì anche loro però purtroppo senza unità di misura no più che unità di misura senza comunicazione perché hanno commesso cioè alla fine indipendentemente da tutto come ha detto prima l'omonimo se non parli e non comunichi se non ti capisci se non c'è un linguaggio comune con cui parlare un linguaggio umano testuale come volete che sia poi succedono queste cose quindi alcuna volta i requisiti se non ha specificato i requisiti anche lì era scritto bene ma non è manco una questione di requisiti in quanto documento scritto è proprio una questione di comunicazione durante il processo cioè io lavoro da remoto da un po' e sento più spesso i colleghi quando lavoro da remoto che quando lavoro in ufficio un altro po' perché è bene avere sempre un confronto continuo se c'è un dubbio un qualcosa devi devi parlare non devi chiuderti nella stanza e puoi lavorare e poi magari se fai scrum la mattina dopo fai il daily in cui dici mezza cosa poi ti richiudi è importante comunque una comunicazione costante perché se non c'è quella c'è una persona che si immagina una cosa poi ne arriva un'altra e abbiamo anche un sacco di meme su questo argomento quindi io so completamente d'accordo cioè l'ufficio è un'altra di quelle cose che ti danno una super falsa sicurezza incredibile e poi alla fine scopri che in realtà toglie i cubicoli e mette gli open space non è stata in realtà tutta sta mossa game changing non è stata una buona idea aggiungere ultimamente ho visto un talk che diceva il modo per evitare che le cose vadano male e mettere le persone che stanno lavorando su quella feature tutte allo stesso tavolo io ho dissentito fortemente per dire sì ok la presenza fisica non vuol dire che si presente anche mentalmente mentalmente cioè d'altro canto invece c'è gente che è felicissima della quarantena perché dice che bello io la mattina mi alzo faccio lo scrum programmo tutto il giorno sì bello ma c'è delle volte parte del lavoro è anche quello di sbrogliare le matasse perché soprattutto secondo me più sali di di livello da un certo punto di vista diciamo così usare sempre la citazione gdr di prima più sali di livello più il tuo mestiere non è più star lì a a programmare ma a sbrogliare la matassa è quello l'ufficio di da sì falsa sicurezza perché vai da tizio e gli dici oh ma sta roba quindi blu eh sì e poi scopri le differenze di visione del blu tra gli esseri umani che possono essere giusto un pelino parecchio bene ottimo a questo punto poi allora andiamo alla domanda quella un po' più no quella la qual è il vostro errore più imbarazzante chiamaci un po' più di pepe e non so a questo punto vogliamo continuare torniamo da Iuna ricominciamo con il giro canonico ok vabbè diciamo al di là delle delete fatte senza la wear secche che insomma capitana a tutti di venerdì sera al di là della diciamo dell'overconfidenza di voler parlare con una stampante utilizzando i suoi comandi raw e inducendo scene da apprendista stregone con questo oggetto fuori controllo diciamo l'esperienza che volevo riportare in realtà è un po' più meno tecnica cioè ha un'anima tecnica però un po' più filosofica sulla natura degli utenti e della scrittura del software un po' di tempo fa in realtà ormai tanti anni fa con un mio amico abbiamo scritto un piccolo tool per per diciamo implementare una funzionalità che non c'era ancora in macOS non si stava nel sistema operativo e abbiamo rilasciato questo side project avevamo anche fatto diciamo approntato un'email in modo che gli utenti eventualmente ci potessero scrivere anche se era una cosa non professionale ma assolutamente diciamo messa lì come passatempo e ci potessero raggiungere se non che io cambio telefono e mi dimentico per un paio di settimane di reimpostare questi email sul telefono nuovo e la sfortuna volle che questa cosa capitasse dopo parecchi anni da rilascio quindi ero abbastanza sicura che non ci fosse più tanta base di utenti diciamo per questo software e soprattutto a ridosso di un rilascio di una nuova versione del sistema operativo quindi il software aveva avuto qualche problema col passaggio alla versione superiore e riaprendo l'email ho trovato due settimane di email di persone che cercavano di comunicarmi l'impossibilità di usare questo tool e lì diciamo la lezione che ho imparato è stata quella che in realtà il software sia nelle scelte tecniche che nel fatto che tu lo rilasci a degli utenti è un tatuaggio cioè una volta che l'hai rilasciato ti perseguita nel bene nel cattivo tempo per tutta la tua vita per cui il fatto che tu l'abbia rilasciato abbia fatto qualcosa e l'abbia rilasciato ti dà sì open source sicuramente aiuta nel mantenimento diciamo del progetto però insomma è sticky ti si appiccica sharing is caring dice una volta che tu quello che devi condividere poi lo devi anche curare non basta intanto sì non solo ma proprio sì le persone continueranno comunque a cercarti ed è appestato è proprio il mio caso nel senso che sono passati quasi 18 anni eppure ricevo ancora i mail di persone che per qualche strano motivo utilizzano ancora questo tool anche se non ce ne sarebbe più bisogno sono affezionati c'è questa affezione sì esatto però sì insomma proprio è sticky nel senso non te ne puoi liberare nel bene o nel male sei riuscita a rimediare poi alla fine dell'errore sì sì assolutamente un po' di mail arretrate un po' di esatto un po' di mail arretrate ma tanta vergogna no come ho fatto a dimenticarmi di questa cosa eppure è stato molto ecco questo sì sicuramente è una cosa che mi ha insegnato tanto proprio sulla natura del rapporto tra il programmatore e l'utente ecco è chiuso perché il software è fatto da persone scritto per persone esatto questo è l'importante torniamo a Davide di Pumbo a questo punto vai il tuo errore più imbarazzato dai volevo il nome del tool io ok no il tool si chiama instant shot in realtà c'è ancora lo mantengo ancora nel tempo libero era un tool che serviva a fare screenshot sotto macOS quando la capacità di fare gli screenshot con Giotki ma questo non ce l'aveva ancora quindi era molto utile all'epoca no allora invece per rispondere alla domanda grazie per rispondere alla domanda io sono stato fortunatissimo sulla questione io ho expato subito a palla cioè sono passato proprio immediatamente ad altissimi livelli facendo uno degli errori che più mi ha formato posso proprio dirlo veramente si parlava di tempi di si parlava di flash si parla di una delle più grandi case editrici italiane che aveva questo sito abbastanza all'avanguardia che proponeva ormai qualcosa come più di dieci anni fa non mi ricordo più preciso dei live streaming sulla loro home page in un'epoca in cui non li faceva ancora nemmeno YouTube dopo il porno eravamo i primi precursori di questa di questa cosa con un flash media server acquistato davvero io ero stato preso la mia feature io dovevo fare il player customizzato con le varie opzioni bla 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 eccetera e cosa ho fatto vado là tutto funziona eccetera non funzionava tipo il titolo della persona che stava parlando avevo fatto tutta una roba che tu potevi dire ok sta parlando x y z e allora praticamente faccio questo ne vedete almeno 4 o 5 perché vi dico quello che vi ho fatto è inutile che vi spiego qual è stato l'errore accedo all'FTP sbagliando poi tra l'altro pensavo di essere in test e in produzione diretto carico l'SVF perché parliamo di flash a mano proprio trascina dalla destra a sinistra eccetera mettendoci come variabile l'ambiente diciamo un vocabolo che alcune persone utilizzano come intercalare che rappresenta il membro maschile quindi prima messa online di questo affare qua dicevo una chiamata proprio chiamata perché sul nostro sito c'è scritto in caratteri cubitali con sopra la faccia dell'amministratore delegato c'ha scritto sto mazzo sul sito è fatto io tra l'altro ai tempi ero staggista c'è una condizione di quella ho detto vabbè ho perso il love amen top e invece poi vabbè è stata fortunatamente l'hanno presa parecchio a ridere la cosa c'era il count view l'abbiamo visto l'avevamo visto tipo sette persone gli screenshot non erano in grado di farli grazie a Dio e quindi la cosa si è spenta lì però questa cosa qui mi ha proprio quindi tipo da lì accessi effetti diretti trasferimenti di cartelle debuggare stampando cose direttamente sull'interfaccia ho smesso di farle proprio subito perché l'ho imparato tutti in una volta sola nel peggior modo possibile l'esperienza l'esperienza subito direttamente al boss finale sono andato grande hai fatto tutto tutta una notte grande dai altro Davide così così vediamo anche il tuo errore più imbarazzante peccato non avere uno screenshot di quell'errore perché sarebbe stato anche da appendere in camera così in casa comunque allora come ho detto prima lavoro principalmente sul back end ma soprattutto in passato ho lavorato sul front end e l'errore penso che ha causato più guai di cui mi ricordo diciamo in dettaglio è stato uno proprio sul front end lavoravo in una piccola azienda eravamo tipo quattro sviluppatori anzi tre e mezzo a dire il vero e dovevo fare un calendario per gli appuntamenti tipo quello di Outlook un calendario con varie visualizzazioni eccetera eccetera in cui dei tecnici che facevano assistenza dovevano segnare gli appuntamenti quindi cliccavano sulla casellina segnavano l'appuntamento e via e va in produzione e funziona per diversi giorni fin quando non arriviamo a fine mese praticamente non so se avete presente quella meme sul CSS che fa CSS ESOM che non è ben allineato praticamente è successo esattamente quello quindi i tecnici cliccavano su un giorno verso fine mese perché si era spostato poco poco si spostava andando avanti e segniamo gli appuntamenti su un altro giorno in verità quindi poi il lunedì mi pare che passano l'unedì mattina i tecnici si svegliano vedono un'altra vista del calendario che era totalmente vuota e non vanno agli appuntamenti e quindi i clienti incominciano a chiamare dicono ma tu questa mattina dovresti essere qui perché non ci sei no ma io ho un calendario niente e poi fortunatamente non erano tantissimi appuntamenti però il cliente si è un pochettino alterato con telefonata abbiamo dovuto rimettere a posti dati un po' di casini però è stato un piccolo guaio fortunatamente erano i tecnici penso che all'epoca erano ancora non tantissimi quelli che usavano penso una ventina quindi danno limitato ma c'è stato bello bello questo però è bello perché queste cose capitano spesso facendo a livello di back end un calcolo sbagliato una conversione della data cosa che ho fatto più mille volte qui invece era proprio un leggero che avvia spostamente in precedenza sì sì in pezzettino lo cliccate era convinto di aver cliccato sul giorno di quelli proprio probabilmente sulla pop up che appariva non si era manco scritto al giorno su cui stava su cui stava lavorando perché poi essendo una cosa in continuo sviluppo un po' troppo evolutivo sviluppava essendo in continuo in emergenza essendo partiti in ritardo sviluppavamo e mandavamo in produzione nel giro di un paio d'ore senza test così e quindi succedevano poi gli inizi sono successi un paio di queste cose questi danni e da lì ho imparato che è meglio testare e non lavorare in emergenza bravissimo ero proprio il meglio testare e ho smesso di fare front end dopo poco vabbè qui si stava radicando ho detto basta così apprendo front end al muro ho fatto almeno per un altro paio d'anni penso dopo questo pure anche conosci te stesso uno deve imparare dove è che gli piace di più e riesce pure meglio insomma invece adesso qual è il tuo il tuo più divertente vai si dice che si dice che DevOps e Agile eccetera sia la la possibilità di replicare su vasta scala un errore però c'è la disparità c'è qualcuno che non è muto ok allora quello che mi è successo a me è molto particolare praticamente una sera io ho deciso di far girare in diciamo controproduzione un test di integrazione di un applicativo che stavo sviluppando in ambito bancario e praticamente che cosa è successo che io insomma ho fatto girare sto test poi sono salito in macchina alle 5 e mezza poi sono salito in macchina col mio collega con mio collega Manuel e sono andato a casa mentre stavo vicino a Nagnena insomma appena uscito mi chiama il capo mio e mi dice guarda che mi ha chiamato il referente del cliente e dice che dall'artifactory de artifactory per chi non lo sapesse è un posto dove sono custoditi per il download è fa da package registry per tutti i package tipo de java de javascript dice che dall'artifactory de grande banca italiana sono spariti tutti i jar ho fatto sì vabbè mi sta a piare proprio continuo a andare a casa tranquillamente il capo mio mi fa guarda che non sto a scherzare solo che il capo mio era una persona molto famosa per i suoi scherzi interni all'azienda quindi ho detto sì vabbè il solito buon tempone ho capito che la situazione era seria quando arrivato alla rotonda lui mi fa guarda che sto serissimo mi hanno chiamato oddio allora ho capito ho fatto un versione e sono tornato indietro praticamente che era successo che io ho fatto girare questo test di integrazione connettendomi direttamente a produzione e ho sbragato una banca semplicemente perché le fixture del test di integrazione avevano le stesse costanti insomma lo stesso nome del repository di produzione della banca e quindi avevo sponato tutto e lì per lì ho avuto veramente i sudori freddi però è stata veramente una grande esperienza perché abbiamo finito col recovery alle 3 di notte però effettivamente ho tipo ho riportato su una cosa come 500.000 artefatti di 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 una grossa banca che il giorno dopo che io avevo fatto sta cosa c'aveva i rilasci schedulati quindi e poi soprattutto abbiamo potuto fare un documento insomma dei disaster recovery e dell'ineguida sul futuro per cui a me mi è capitata la stessa cosa che è capitata per esempio agli ingegneri di GitLab solo che fortunatamente nel caso mio i backup funzionavano e quindi abbiamo messo a fare restore e ovviamente io so invecchiato dei tre settimane anzi dei tre secoli come dice elder che ci sta ascoltando in poche ore e il mio capo dell'epoca lo conosci perché era pure il capo tuo un po' di tempo prima e è veramente cioè è stata una cosa clamorosa io in realtà me la rivendo oltre che come errore anche come occasione perché in quel caso non è stato più permesso agli sviluppatori attraverso opportune regole ACL eccetera che collegassi all'artifattori di produzione da una workstation così quindi ancora una volta i processi i processi a fine sono quella rete di sicurezza che ti aiutano a evitare o ridurre il danno quando commetti l'inidevitabile errore sì diciamo che quella cosa là non mi è mai più successa perché dove ho lavorato dopo o non me lo sono permesso da solo perché facevo l'operation engineer e ovviamente la prima cosa che ho fatto è stato mettere al sicuro produzione da una cosa del genere oppure per esempio adesso dove lavoro in Hootsuite io non posso in caso di produzione o sull'artifactory di produzione posso solo fare delle query per vedere se ci stanno dei package però non quindi come al solito i grandi errori non hai detto che poi possano comportare i più grandi errori chiaramente come abbiamo detto anche all'inizio sono anche le più grandi occasioni per imparare poi pure io ho una grandissima collection come Davide Di Pumpo di sto mazzo in produzione tant'è che c'ho anche scritto un API che te lo restituisce in JSON as a service che sono proprio affezionato a questo ma quindi se vogliamo eleggere un vincitore del migliore errore che vogliamo fare come vogliamo a chi è che diamo la palma del miglior errore secondo voi per 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 chi ha fatto la cosa più imbarazzante che dici la mettiamo in votazione sì facciamolo votare Alessio ha ricevuto un sacco di cuoricini non so se le hai vissi mentre parlavi vogliamo vogliamo però pure Davide pure Davide diciamo pure Davide era buona no quella cioè veramente rega erano quello ma poi sai quando succede quello spesso uno fa in maniera anche quasi un po' apposta al mettere su situazioni di errori che non possono capitare e poi capita no e il messaggio viene mostrato intanto questo nome non si vedrà mai stiamo su qui con i commenti scrivo cose di quel genere hai smesso su tutto infatti io non ci penso nemmeno lo so già che però nemmeno nei messaggi di commit cioè proprio sì il destino farà sì che quella cosa uscita ti si riuscirà contro quindi se lo scrive è già destinata a uscire però effettivamente vedo che Davide sta bello in testa ragazzi perché quello che hai fatto tu non era così visibile tu eri mostrato avendo fatto frontend era ovvio che facessi più io sfortunatamente l'ho richiappata prima che 400 team di una banca andassero a rilasciare dei jar non esistenti poi ti venivano a trovare sotto casa magari veniva linciato fantastico mentre le persone votano a questo punto facciamo giusto un rapido giro sull'ultimissima domanda così poi magari apriamo le domande dal pubblico e cioè a questo punto secondo me qual è il vostro più l'incubo peggiore che avete nel fare qualche cosa appunto come dicevi adesso io a questo punto mi blocco subito perché blocco i permessi o meno però il vostro incubo peggiore da programmatore cos'è che non vi fa dormire la notte cos'è che non vi vi preoccupa di più in assoluto e quindi di conseguenza cosa fate per evitarlo insomma scusami Giulio prima che rispondano se qualcuno vuole fare qualche domanda la può sempre fare tramite menti.com e poi così poi le leggiamo e voi potete rispondere benissimo vado ok la mia fobia più grande è quella di fare qualcosa che rimane solamente da dire ok ormai la frittata è fatta non si può proprio tornare indietro e ci sono operatività in cui questo succede nel senso in cui magari devono partire delle mail in cui magari ci sono ci sono dei processi in cui non è proprio possibile ritirare quello che hai fatto e per cui a quel punto diciamo quello che faccio normalmente è ricontrollare tutto testare tutto sia visivamente che con con metodi automatici con conteggi qualsiasi altro tipo di esperienza che posso mettere in campo per evitare questo tipo di errori perché effettivamente ci sono la maggior parte degli errori si possono recuperare in qualche modo però ho sempre paura di per quei processi per cui effettivamente non non si può quando è partito è partito basta il punto di non ritorno esatto esatto e ci sono anche operatività in cui questo succede insomma ottimo e Davide vabbè io facendo è abbastanza simile però facendo per lo più front end io la cosa di cui ho più l'incubo quando faccio un rilascio è la cache io sono terrorizzato dalla possibilità che l'utente ci abbia in cache una versione sbagliata di quello che vede perché mi capita ancora oggi succede spesso tipo fai continuous integration deploy a quali in qualsiasi momento eccetera e becchi il tizio che si becca un chunk di una versione un chunk di un'altra e non sai cosa succede infatti una delle cose che mi ha tolto di più veramente mi è ridato il sonno parecchio sono i tool di login direttamente dal client dell'utente tipo senti quello che rientriamo ultimamente perché appunto questa cosa so che succederà l'errore anche perché un'altra delle problematiche adesso la sento molto di meno ormai è quasi impossibile vederli ma a me mi capitano ancora con tutto quanto il tooling che c'è types che eccetera undefined is not a function perché qualcuno sta utilizzando qualche browser esoterico che nessuno più vede l'ultimo bug del genere è vero ragazzi è reale perché proveniva da un chrome 32 che è un tizio che si è collegato alla nostra una versione tipo di 6-7 anni fa con chrome che si autoaggiorna e quindi queste cose qua a me mi mettono l'ansia ogni volta infatti quando faccio un rilascio grosso io vado con virtual machine con tutti i browser possibili e mi faccio il giretto mio ma è inutile perché non lo beccherò il bug non succede mai nulla però è proprio quella cosa che mi leva l'ansia a te le cdn come le vedi le cdn a questo punto le paure delle cache bellissima domanda questa qua non lo so perché è una di quelle cose su cui perdo il controllo quindi ho sempre un pochettino paura anche perché per come lavoriamo noi soprattutto come stiamo lavorando adesso in Credimi noi rilasciamo proprio direttamente parti dell'applicazione con con il testo cioè veramente con il testo dentro tra virgolette usiamo per il markdown tutto quello che volete però direttamente con il testo dentro quindi non c'è un db e quindi facendo un lavoro finanziario a me che ci sia scritto finanziamento ottieni un finanziamento ottieni una proposta capite ben diverso ben diverso cioè uno mi fa causa l'altro no te ne accorgi lo metti scegli la causa che poi lo metti in produzione e tutto funziona e tu sei lì che dicendo ma anche banalmente io a me spesso capita di andare su la console di Chrome di Google Google Search Console per sketchare il risultato che si vede in pagina perché è arrivato il legale e mi ha chiesto tipo di cambiare quel pezzo di testo lì eccetera che magari si vede in una paginetta esoterica che non dovrebbero mai questo tipo di cose qua quindi sì ho quel tipo di paura che mi che mi perseguita il tuo incubo peggiore è la cache vabbè sì come fai la condivido la condivido anch'io anche per me mi ha fatto dormire notti non tranquillissime Davide servo invece per me sono fare quel piccolo errore che ti abbatte le performance e ti butta giù le macchine un cluster o qualcosa o ti uccide tutto così in un attimo errori anche a volte triviali tipo me ne è venuto uno in mente che ho fatto anche recentemente fortunatamente sono ambienti di test stiamo facendo i test di performance i miei test di performance hanno andato abbastanza bene aggiungo dei controlli aggiuntivi per fare i test di performance e praticamente mentre faccio i test non funziona più il cluster di Kubernetes che usavano tutti quanti per fare i test e io vado un po' da chiedere che succede che non succede ah no niente forse quegli altri l'hanno rotto aspetta ora vediamo e apparentemente essendo ambienti di test spengono e riaccendono rifaccio i test di nuovo vanno cioè di nuovo cade il cluster mi accorgo che un endpoint che usavo per fare delle verifiche praticamente caricava in memoria talmente tanta roba cioè un endpoint che usavo apposta per fare il test di performance caricava talmente tanta roba in memoria che dopo un po' uccideva il cluster perché c'era un problema con Redis che faceva delle cose che non doveva fare cioè che io non cazzo cazzo con tutti i filisteri questo è il mio incubo peggiore mai successo in produzione fino ad oggi ma negli ambienti di test mi è successo tante 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 meno male che ci stanno Alessio te invece così poi dopo facciamo una delle domande del pubblico la più votata vai Alessio allora pur da front end a parte che mi sembra chiaro che il feedback che è emerso è non lavorate mai con le banche a me questo è una cosa dopo me e dopo Davide io penso veramente per contatto devo dissociarmi da questa affermazione no a parte gli scherzi allora la mia paura più grande io faccio il front end del lavoro però la migrazione del db in produzione è sbagliata per me è proprio cioè scrivi una migration sbagliata ti tocca fare store del db è una cosa che non mi piace veramente non cioè proprio mi fermo e dico no questo questo non credo quindi quando tocchi i dati il tuo eco è toccare i dati sì no perché la parte del data display il livello di presentazione prima o poi la cache scade l'utente muore cioè qualsiasi cosa ma i dati stanno là al sicuro e siccome ho fatto io ho fatto di tutto in realtà quando stavo all'università stavo al laboratorio di sicurezza reti quindi in realtà cioè per me la cosa importante è che nessuno vada a toccare i dati la cosa ironica è che in realtà il mio errore più grande è stato proprio su quello e a volte è così però mi ha aiutato tanto a esorcizzare le mie paure cioè a certe volte io proprio fino a qualche anno fa capitava che io avevo paura di fare dei task perché magari che ne so la migrazione sbagliata mi poteva comportare una cosa del genere o che ne so oppure che ne so fare frontend oddio però l'accessibilità i dat border le area label e se ci metti le mani un cieco come faccio cioè tutte queste cose qua alla fine poi la 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 eh sì infatti questo poi Davide pure è molto sensibile a questa cosa ha fatto anche io a caso di rappresentazioni interessanti su questo argomento non so se abbiamo tempo giusto Mara per una domanda del pubblico quella più votata giusto rapido ci sono quattro domande c'è qualcuno che ha più voti aspetta aspetta che le controlliamo diciamo allora tecniche per evidenziare per evitare scusate di fare errori eh poi questa eh se l'errore non è stato scoperto dal team si tratta ancora di aspettate che non leggo si tratta ancora di oddio non riesco a leggere aspettate aspettate che succede quando l'errore eccola 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 adesso da tutto schermo come gestite l'errore a livello di team e a livello personale insomma come gestite emozioni e rapporti del team quando qualcuno attiva la funzionalità imprevista oppure l'altra se l'errore non è stato scoperto dal team si tratta ancora di un errore lo nascondi tenti di correggere a costo di fare la nottata o ti fa aiutare dal team tecniche per evitare di fare errori queste sono le quattro domande arrivate non so ognuno magari vuole rispondere a una in particolare giusto magari possiamo possiamo in quattro magari potrebbero rispondere una ognuna eh può essere una buona idea ottima ottima idea vai vai una ok perché è questa perché è così difficile ammettere l'errore perché l'errore ci colpisce nel profondo nel senso che siamo tutti esseri umani da una parte che hanno un profondo senso di dignità e l'errore la scalfisce volenti o nolenti no? cioè dobbiamo ammettere di aver sbagliato aver fatto qualcosa che non avevamo pensato è successo qualcosa a cui non che non avevamo previsto e soprattutto gli informatici penso su questo fatto psicologico non abbastanza particolari ci tengono abbastanza e sì quindi penso penso sia questo anche la paura delle conseguenze che l'errore ha cioè quando succede che qualcuno scopre un errore poi tu pensi subito ah ci picchio adesso questa cosa porterà tutta questa serie di problematiche come faccio a dirlo come faccio a a mettere Davide quando l'hanno scoperto ma in mezzo anche Alessio quando cioè pure delle conseguenze il processo non può aspettarsi che tu non possa sbagliare questo sarebbe il concetto e poi c'è la connessione con la sindrome dell'impostore che in qualche modo sembra che sta finalmente la maschera è stata gettata no? e quindi invece no non è questione dell'impostore sì però poi ci sono errori che sono obiettivamente difficili da scovare ma altri che magari derivano da viste banali per cui insomma ti senti proprio toccato nel profondo come ha fatto a non pensare a questa cosa certo tu invece Davide qual è quale sceglieresti da queste? quali vorresti sentirti rispondere? vai sei muto sei muto sto facendo ogni tanto mi alleno nel fare il mimo allora la due va benissimo seguiamo l'ordine così nessuno sceglie ed è più democratico come ci stiamo di team è bella mi piace tantissimo la feature imprevista allora se ci sono due questioni qua per me io adotto quella che chiamo la regola del piccolo Charlie e praticamente dice questa cosa qua se noi facessimo il medico di mestiere e abbiamo fatto un intervento sul piccolo Charlie possiamo non averlo salvato nel migliore del modi magari domani non cammina ma è in vita cioè se non hai ammazzato il piccolo Charlie non ti devi preoccupare questa è una cosa che dico spesso alla gente del team infatti anche diventa quasi un meme come sta il piccolo Charlie quando questa cosa qua molto film americano questa e quindi no bisogna sempre cercare di fare due cose il primo è trovare un safe environment cioè un posto in cui la gente possa fallire soprattutto quando si parla di figure più più junior perché questa cosa qui come lo diceva prima Alessio prima fai l'errore prima ti passa la paura e inizia a camminare sulle tue gambe tanto gli errori li faremo sempre tutti la seconda è capire qual è l'errore non andare mai sul catastrofico cioè veramente o hai ammazzato il business e lì l'errore è veramente grave per qualche motivo o se no c'è sempre qualche possibilità c'è anche da dire che anche se hai fatto errori devastanti anche magari davanti al pubblico eccetera se sei bravo una missione di colpa funziona funziona sempre abbastanza bene anche come società intendo e cioè ci sta che qualcuno abbia abbia sbagliato è molto più pensate se pensate se ne avete senti tanti in questo periodo di cos'è abbiamo ricevuto un attacco hacker cioè quella è la stessa cosa eh questa è cattiva eh questa è cattiva invece uno avesse detto oh raga non siamo buoni scusate adesso lo rifacciamo cioè acquisisci che nel mondo UX si chiama appunto l'inglesismo aiuta un po' la trust esatto cioè aumentare il trust factor è anche una cosa quindi non bisogna mai essere catastrofici avere sempre environment in cui fallire questo vuol dire anche se proprio l'errore appunto qualcuno è attivato eccetera l'altra cosa che bisogna fare sempre dopo gli errori l'aveva detto Alessio prima è capire perché è successo come evitare di ripeterlo cioè voglio dire la colpa non è quasi mai di un signore esatto ma è migliorare il processo se la colpa cioè se questa roba qui per dire se io ho attivato questa feature e nessuno se ne è accorto dove erano le pure quest il pair lo scrum l'abbiamo fatto se la feature cioè e di conseguenza si va avanti anche lì è sempre una questione di team in tutti i sensi se mi hanno aperto una pier io non mi sono accorto di un bug devastante cioè la colpa è anche la mia la colpa è anche del capo cioè è così basta certo certo così come c'è da capire io una cosa che faccio spesso delle volte che dipende da quello di prima se la specifica non era chiara non ti puoi lamentare che il risultato non è quello che ho ottenuto ce ne stanno un sacco di discussioni su l'80-20 cioè il 20% del codice risolve l'80% delle situazioni l'80% del codice si concentra sui 20% dell'edge case è ovvio che se c'è un edge case e nessuno me ne ha mai parlato perché io sono tenuto da sviluppatore a sapere di sviluppo design devops io me ne scampo di devops non so nulla spero che continui così a lungo di cose di questo genere qua però tu non mi hai spiegato per dire la differenza tra per esempio il fantastico mondo bancario che tanto amiamo la differenza tra un una cessione prosoluto e una cessione prosolvendo per dirvi due buzzwords mamma mia mamma che hai detto aiuto questa roba qui tu non me l'hai spiegata e io non sono riuscito anche lì ce n'è da fare quindi abbiamo sbagliato facciamo un vocabolario appendiamo i post-it io me li scrivo sulla mano mano sinistra mano destra fino a che non ho capito e così via esatto andiamo sulla terza così e un'altra è la terza domanda così rispondiamo alle quattro che abbiamo i nostri amici che si facciamo allora ah ok che fai nascondiamo ah non se ne sono accorti vai vai allora bella domanda si deve essere scoperto dal team allora diciamo quando ero più junior più piccolo sì forse avrei avrei nascosto e risolto durante la notte oggi assolutamente no cioè sicuramente se trovo un errore lo scrivo e mi metto subito a risolverlo ovviamente è una cosa che blocca di certo non aspetto tra virgolette l'aiuto del team o comunque cioè deve subito emergere perché comunque è inutile nasconderlo prima o poi si viene a sapere e sì diciamo che scrivo al team e mi metto a risolverlo il più velocemente possibile certo certo l'ultima qual è vediamo l'ultimissima l'ultimissima così sono riusciti a fare tutte e quattro ah tecniche per evitare cambiare i permessi allora sì a parte cambiare i permessi e tutte le ACL le cose i ruoli eccetera che poi tra l'altro da sviluppatore cioè le ACL sono un casino da scrivere quindi è proprio una cosa che chi ce le ha le usi e allora Davide dice Gerkin io so d'accordo parzialmente d'accordo a me da con il mister nel senso che è vero ma i test e lo dico da tester perché io in Apache scrivo la software la la suite di test integrazione di CouchDB e i test si portano con loro il bias del tester quindi in realtà è vero e non è vero e tra l'altro ci stanno per esempio che ne so si Gerkin è una via ci stanno tanti strumenti è vero come ha detto pure prima Davide Cerbo cioè ci stanno talmente tanti strumenti che è veramente colpa tua oggi se non lo fai e in realtà c'è anche un'altra cosa però che è colpa tua se non la fai che è un minimo di interazione in più formalizzata nel senso che proprio stamattina la chiave di questa cosa è il per programming secondo me e il mob programming e proprio stamattina vedevo una vignetta che non trovo più in cui praticamente c'erano due programmatori separati che facevano mi sa che l'hai vista pure che facevano un altro dirty hack che schifo adesso questa classe java final 2 3 funzionerà alla perfezione e poi dicono facciamo per programming se mettono la bombetta il cilindro il monocolo e fanno come la chiamiamo questa variabile quello chiaramente prende in giro l'approccio opposto che è troppa magari prematura optimization come diceva Davide tipo un po' prima o altro però in realtà è vero che certe volte cioè alla fine noi ci vergogniamo ogni giorno del codice che scriviamo perché perché c'è un'imperfezione intrinseca nel lavoro che facciamo e averci una persona di fronte che che sta guardando quello che fai non con con l'intenzione di trovare per forza un errore ma banalmente una persona che coopera con te ti fa vergognare è tipo il mito dell'anello di gigge di di platone no cioè questo anello magico anche altri anelli magici esistono però questo anello magico che siccome quando te lo mettevi la gente non ti vedeva allora platone diceva che se tu indossavi l'anello di gigge diventavi malvagio perché potevi fare tutte cose non visto che altrimenti ti saresti distenuto dal fare questa cosa è alla base del signore degli anelli come narrativa però il discorso è se c'hai davanti qualcuno sei un po' più restio a insomma a fare delle cose che non dovresti fare su un prato verde quindi secondo me l'interazione stretta è la chiave per queste tecniche per programmi secondo me secondo me sono la prima cosa da adottare e chiaramente poi una suite di test blindata quindi test cioè non solo unitari ma pure di integrazione visual regression eccetera eccetera perché è tutto bello però io personalmente la cosa che tento di fare sempre è trovare la shortcut più rapida per cui se io faccio una cacchiata il componente react nello specifico non si renderizza la classe java non compila eccetera fail fast sì sì sempre ok facciamo giusto così anche se siamo arrivati verso le otto insomma il tempo troppo stringe e magari rapidamente se voi avete qualcosa da consigliare in letteratura un libro che può essere interessante e suggerire a chi ci ascolta ancora è resistito fino a quest'ora ad ascoltarci che potrebbe essere qualcosa che mi può approfondire cosa avete scelto non so io ho fatto una scelta cosa suggerire sì io suggerisco questo libro che è Gile on software eccolo qua che si è girato è un libro di Gile Spolsky che parla di software in realtà è un estratto dei suoi articoli cioè diciamo è un libro che nasce da una raccolta dei suoi articoli di blog per chi non lo conosce Spolsky che in realtà è il fondatore di Stack Overflow è stato tanti anni in Microsoft prima quindi ha una grossa esperienza di scrittura del software e un articolo che mi è sempre rimasto in mente di questo libro è cose da non fare mai in cui lui parla di come gli sviluppatori quando guardano il proprio codice pensano subito che faccia schifo che vada riscritto da capo e che sia irrifattorizzabile bruttissimo buttare e rifare e in realtà facendo questo non si rendono conto che assieme al codice buttano via tutta l'esperienza tutta la knowledge che si è accumulata in termini di bug fix di interazione con gli utenti di comprensione della problematica che stava dentro a quel codice ok quindi non bisogna non devo cancellare niente anche se fa schifo lo lascio così vabbè lui diciamo colgo colgo c'è sempre un modo di rifattorizzare sì di rifattorizzare per renderlo meno brutto più manutenibile ed è una cosa preferibile anche non gettare tutto rifare tutto da capo magari ottenere risultati decisamente peggiori ottimo interessante invece Davide sempre il solito giro io ho due letture purtroppo una non la posso mostrare perché in realtà sto traslocando e l'ho già incartata però il primo è un link bellissimo repository ma spesso penso che molti li conoscano di Awesome Firsthood ovvero tutti i luoghi comuni che gli sviluppatori hanno tipo io ne subisco uno costantemente l'idea che un cognome non possa avere spazi io per facebook quando faccio login con facebook sono Davide perché di i spazio non lo vogliono non vogliono accettare da averlo non passo c'è gente molto più sfortunata di me perché i genitori l'hanno chiamati null e questo praticamente non gli permette di accedere a nessuna nessun ti chiamai drop table pensa un po' vorrei chiamarci mio figlio se me ne avrò uno così sarebbe divertente una lettura importante per appunto vedere come spesso e volentieri si parla di abbiamo dei bias sempre anche uno dei motivi per cui si parla giustamente dei diversity perché più la gente è diversa meno bias comuni hai abbiamo dei bias tutti quanti tipo sui nomi sull'ora eccetera tipo tutti pensano ma molta gente pensa che l'ora è sempre cioè i fusi orari sono solo fusi orari di un'ora cosa che non è vera e quindi fai delle assumption fai dei test fai delle cose quindi per me ottima lettura la direzione del testo la direzione del testo quella lì è fantastica tutto il CSS è sbagliato ragazzi c'è un corretto 3 o 4 anni fa con la direction margin left non dovrebbe esistere ecco infatti c'è margin start adesso sono inventati la seconda lettura metto il link su Amazon non c'è l'affiliazione quindi tranquilli credo almeno un libro che non c'entra assolutamente nulla ma è uno dei miei libri preferiti di Munari che parla di artiste e designer come dite che cavolo c'entra con gli sviluppatori parla praticamente della differenza che c'è tra chi esegue qualcosa per se stesso e chi invece progetta e realizza qualcosa per la grande produzione quindi la differenza da farsi una sedia a mano e cosa vuol dire fare una sedia perché invece venga ripetuta e ne volte e che soddisfi i bisogni dell'utente che è l'altro punto che magari abbiamo toccato è un libro veramente che io consiglio sempre a tutti ovviamente è molto più incentrato in realtà è incentrato sul design del mobile sull'industrializzazione del design del mobile quindi è veramente in tutto un altro mondo è piccolino lo consiglio perché appunto ti fa capire cosa vuol che molti problemi con cui noi ci scontriamo oggi che noi non facciamo altro che spesso e volentieri digitalizzare i lavori vecchissimi li digitalizzavano gli artigiani li hanno già affrontati già risolti e noi forse dovremmo guardare come avevano fatto per non commettere lo stesso errore Davide invece tu scusate potete mettere i link oppure anche solo il titolo in chat così poi non li raccogliamo e li mandiamo sia via email che nella tech community così dopo non dobbiamo richiedervi se lo fate adesso è più semplice grazie dai tu invece cos'hai scelto allora mi fa piacere che ci sono diversi punti in comune con entrambi le persone che mi hanno preceduto perché uno è lo stesso libro che ha detto Iuna quindi vabbè l'ha già descritto lei quindi lo evita ne avevo presi due uno era questo qua l'altro è clean code perché comunque scrivere codice pulito ti aiuta tanto poi ad evitare errori a scrivere codice più comprensibile e quindi a comunicare anche meglio con gli altri e poi un punto in comune con Davide di Pumpo a me è un libro che mi è piaciuto molto dal punto di vista del design e che mi ha aiutato all'inizio a fare design del software è da cosa nasce cosa di Monari quindi è strano che una persona abbia fatto design architettura eccetera eccetera poi per due persone che non si conoscono che Davide l'ho vista molto in un talk poi non lo conosco abbia in qualche modo dato delle indicazioni sullo sviluppo del software bello bello questa è una cosa molto particolare Monari e Gianni Rodari sono le uniche letture che dovrebbero già dare all'elementare per qualche modo Alessio molto complicato il signore allora io vi linko una cosa che ho letto e che mi ha aiutato anche a capire come imparare che è questa siccome ho letto l'ebook non so se si vede si chiama Competing with Unicorn e è un libro della Pragmatic Bookshelf di Jonathan Rasmussen e praticamente mostra come fa le cose quello che lui chiama uno unicorn che è una company che fa un sacco di sordi subito Jonathan Rasmussen ha lavorato mi pare in Google e poi quando ha scritto questo libro faceva il coach a Spotify e diciamo appunto è un libro che al di là della cultura del software è molto sulla cultura dell'apprendimento quindi c'è un particolare accento chiaramente sul fail fast la seconda cosa che che vi voglio condividere è un libro che io ancora non ho letto e che è di mia prossima lettura che è questo qua perché me l'hanno consigliato un sacco di persone gli ho dato una sfogliata e è veramente una cosa fantastica e quindi questa è la prossima cosa che leggerò si chiama The Five Dysfunctions sova team e e siccome in realtà per esempio ultimamente appunto ho avuto degli episodi di leadership tra virgolette è è una cosa che sento che ho il bisogno di approfondire quindi questo libro sicuramente me l'ha me l'ha regalato un amico poco tempo fa e che saluto ciao Marco e e e penso che mi migliorerà sicuramente da quel punto di vista ottimo grazie grazie mille insomma mi sa che ci siamo 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 agli sgoccioli vero sei sei mute non solo siamo agli sgoccioli ma siamo andati molto 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 lunghi perciò non facciamo in tempo a fare il networking assolutamente vi vi invito a Alessio Davide Davide Yuna a mettere se non avete fatto i link sulla chat in maniera che le possiamo le possiamo ricondividere con gli altri invito tutti a iscriversi alla Tech Community su Facebook in maniera che potete essere sempre informati sui prossimi sulle prossime attività detto questo io vi ringrazio non so se Giulio vuoi salutare o dire qualcosa siamo andati molto molto lunghi siamo andati lunghissimi però effettivamente gli argomenti alla fine come ci aspettavamo l'errore è una cosa importante molto profonda nella vita dello sviluppatore io voglio innanzitutto ringraziare i panelist che insomma sono stati bravissimi molto sinceri molto genuini nelle risposte insomma effettivamente è un'ottima compagnia ma mi auguro insomma sia stato utile a tutti e anche un'occasione per condividere e imparare dagli altri perché non si commette non si parla soltanto dei propri errori ma anche degli altri la condivisione è un aspetto importantissimo quindi vi ringrazio a tutti veramente molto gentili e spero appunto che ci incontreremo nei prossimi altri meetup assolutamente se avete feedback sia le persone che ci stanno ascoltando che anche i panelist se avete feedback su questo meetup o idee sui prossimi meetup nei prossimi giorni cominceremo a lavorare sulla scaletta dei meetup da settembre in poi perciò insomma questo è il momento un po' di mettersi al lavoro e vi ricordo questo ciclo di quattro meetup che faremo con Scope Europeo il primo dei quali è proprio sullo Spotify model ma è su come costruire team performanti perciò insomma un'attività che riguarda tante tante persone va bene io vi saluto e alla prossima ciao a tutti grazie ciao 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 ciao